A Roseto degli Abruzzi l'amministrazione comunale si è appresa ad attivare i due nuovi impianti T-RED posizionati nelle frazioni di Cologna Spiagge e Santa Lucia. Questo visto l'installazione recente dei contasecondi che preluda a una decisione imminente sulla loro attivazione. Il sindaco Mario Nunes ha sottolineato che la scelta dei due siti è stata dettata dall'analisi del tasso di incidentalità effettuata dalla polizia locale. L'obiettivo è quello di sanzionare uno degli articoli della sicurezza sanale. Il superamento con il rosso e quindi l'articolo 146, secondo e terzo comma, che vengono sanzionati attraverso questo strumento elettronico denominato T-RED. Saranno installati a Santa Lucia e a Cologna, partiranno nei prossimi giorni e avranno la finalità di sanzionare soltanto questa violazione al codice della strada. Ce ne sono molte altre che stiamo cercando invece di sanzionare noi con le nostre pattuglie su strada. Con l'introduzione di un contasecondi abbinato al semaforo giallo si spera di fornire agli automobilisti un aiuto concreto nel valutare il tempo a disposizione per attraversare gli incroci. Il contasecondi è stata una scelta dell'amministrazione, il contasecondi non è obbligatorio, è facoltativo, con la lanterna veicolare gialla diventa obbligatorio se la lanterna veicolare gialla è sotto i 5 secondi. Nel caso nostro, essendo di 5 secondi, non era obbligatorio, l'amministrazione ha scelto di installarlo e quindi saranno installati. Il T-RED è un sistema che negli anni ha suscitato non poche polemiche da parte dei cittadini e non solo. Per questo motivo la domanda sorge spontanea, è un dispositivo che va esclusivamente a favore della sicurezza stradale? Io sono contrario a questo strumento elettronico, o meglio sono favorevole nella misura in cui esiste un monitoraggio precedente in quegli incroci, dove si testimoniano un numero rilevante di sinistri conferiti o mortali e a quel punto il T-RED può essere messo, ha una sua logica, vanno monitorati i risultati e vanno resi pubblici. Nella misura in cui non esiste questo monitoraggio, i T-RED vengono messi così random, non hanno una funzione preventiva di sicurezza stradale, ma hanno una funzione di sanzionare una violazione legittima, i T-RED sono legittimi, ma personalmente sono contrari a questi strumenti elettronici, così come sono contrari anche ai varchi elettronici e sono contrari alle autovelox fissi.